ok signori e signori stiamo andando al mercato coperto dove abbiamo un piccolo mercatino del usato è mercatino deriuto c'è pure il tua freccia dov'è mercatino orto fruttino no deriuto niente di nuovo ecco qui siamo davanti all'ospedale ospedale quello per il cuore nascono i bambini stavo per dire poi c'è la discesa dove vanno i ragazzi con i sector fanno quei skate o sector fanno tutte le zingate poi fanno il curbone poi arriviamo nella zona dove ci si può andare anche con le macchinette ricomandate al solito sono bambini con le motorette macchinette ricomandate e esattamente a sinistra abbiamo questo mercatino del usato devi scendere giù lì vado c'ho con la macchina si scusate ma prima volta ci vado non c'è aspettare niente di che no mi aspetto un posto molto horror si da usare l'ambiente immaginate di notte arriva adesso tutto all'aperto sarà sotto questi vortici infatti c'ho notato qualcosa tutto buio eh si si niente di nuovo avanti avanti dove ci sono quelle macchine lì è già lì e lì sotto inizia niente di nuovo andiamo a vedere bene chiediamo quella signora la fa un po' paura quella signora non so se posso filmare eh signora scusi signora scusi bellino di che ora fa paura non so se si può eh ora fino a che non ci dicono niente andiamo avanti non chiedere però perché c'è un po' più bello sì sì l'alba che si è un po' tanto si mettono lì con l'odore l'assassina vediamo se lo troviamo bisogna lampada qui no no fate un'occhiata anche voi se vedete qualcosa che vi interessa potete tornarci qui c'è un po' tutto quello che ci potrebbe essere noi siamo alla ricerca di lampade sentite un po' ma che bel ambiente gente che si accoltella infatti io la trovo a te ma scusa ma uno prende dentro e ti agiti questo è un ambiente vediamo dei libri una volta mi avete andato alla città e non è più non ci vengo ma è male andiamo a si infilare dentro l'arma cinghierume ma queste sarebbero le lampade che vorrebbe farmi comprare le richieste no belle non mi viene paura quando è al cielo ma dove mai cazzo mi hai portato scusa guarda ma è pazzo qui c'è un percorso da fare vabbè guardate voi se vi contestate qualcosa che io credo esattamente non mi interessa un cavolo questa robetta qua questi mobili un altro frigorifero sfondato proprio sicuramente l'ha fatto fare la strada sbagliata certo di qua si esce ora come faccio ad andare vabbè ma non è che ci tengo a entrare da dentro guardateci che oro siamo anche andati grazie Chris mi hai portato in un posto bellissimo ho ancora paura giocami una lampada aspetta queste ma che cazzo ce le porta le cose colori strani magari di lui ha vingato un po' magari lui fai un danno non so 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 ma che cazzo ma adesso due euro ma due favore ma perché che l'offerta che vuoi capite è al mezzo no aspetta un po' ah non si può andare ah non si può andare ah sì ecco avete sentito che noi ci noi ci destreggiamo giustamente la signora fa notare oh che belle cravate ecco ma io potrei che fa una cravata cosa hai visto là dentro niente sembrava un telone strano ma se ce l'abbiamo il telone sembrava uno di quelli apposti ah qui abbiamo aspetta questo è interessante se qualcuno serve qualche casco da snowboard la moto bicicletta skate parco qua trovate televisori mobilio là sei sicura che là non si può comprare nulla sicura? ora se zoomo vedo meglio così c'è anche un bel pupazzone va bene questo è il famoso mercatino lo si chiama? andiamo a caso tutta l'aperta ciao